e noi ve la presentiamo questa sera. Raffaella da più di un mese è impegnatissima nelle prove del suo show estivo intitolato Forte Forte Forte. Nino con una nostra troupe è andato ad intervistarla. Vediamo il filmato che è stato realizzato da Tonino Del Colle. Avanti. Vai. Vai. No, no, stop, 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 no. Raffaella, scusa, viene un attimo. Che inferno che è questo lato. Sì, ciao, ma mi dai anche un bacetto, ci conosciamo da 58. Anche due. 58. Ti ricordi, il centro sperimentale di cinematografia. Prima di tutto non eliminerai le date. Comunque tu volevi fare l'attrice, hai iniziato molto bene, no? Hai iniziato recitando in cinema con Frank Sinatra, in teatro con Gino Cervi, eccetera, eccetera. Poi invece sei diventata una grande showgirl, il numero uno in Italia, assoluto. Ti ho seguito, ti ho seguito. Senti, vogliamo parlare invece di questo Forte Forte Forte, un 45 giri, un long play e uno spettacolo, Forte Forte Forte. Tanto per far capire il titolo, tre cose con lo stesso nome. Dunque, è uno show molto particolare, perché tu devi sapere che io senti un po' il fiatone. Già, tranquillo, non ti preoccupare, abbiamo tanto tempo con te. No, ma sento che c'è oggi poi, un po' di nervosismo perché stiamo veramente per debuttare quasi più o meno, quindi siamo tutti abbastanza tesi. Dimmi la verità, ma è anche un tuo modo per avvicinarti al pubblico? Ricordati che tu hai fatto il centro sperimentale, volevi fare l'attrice. È vero. È un modo di ritornare al pubblico, no? È vero, perché solo con la televisione, in realtà è poco, anche se io l'amo moltissimo, perché è quella che mi ha dato la fama, praticamente, certo. Però il contatto diretto col pubblico è straordinario. E poi nelle serate c'è un fascino un po' particolare, devo dire, perché le serate inizialmente erano un fatto così, di un'orchestrina, un cantante e basta. Allora, invece io ho cercato di portare in questi anni uno spettacolo, lo show veramente come si fa in America. Ecco, adesso la canzone, adesso musica, è ora di ascoltare musica. No, adesso devo cantare una canzone, la posso cantare? Lui, vedi, vorrebbe che io ballassi solo, perché Gino Landi è un fustigatore. Tira l'acqua al suo molino, no? Lui di adesso musica ne ci tiriamo l'acqua al nostro molino. Al nostro molino. La canzone, forte, forte, forte. Mi pare il minimo. Mi pare bene. Grazie. Quando chiude gli occhi e tocca la mia bocca a lui, sento allora che qualcosa sta arrivando. a me. Poi rimango vuota e ferma in quel momento. Non vi dico allora, allora cosa sento. a me. mi tiene forte, 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 forte. Mi prende forte, 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 forte. Poi gioca forte, 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 forte. Mi ama forte, 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 forte. Poi balla piano, 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 piano. È fatto così. Ecco cosa fa. Mi prepara un'altra tassa di caffè. a me. 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 vuote e vi giuro che nessuno può capire com'è quando lui mi tiene stretta, forte, forte, sì. Forte, 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 mi bacia forte, 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 mi tiene forte, 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 mi prende forte, 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 poi gioca forte, 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 mi ama forte, 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 mi piace forte, 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 forte Forte, 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 forte Grazie a tutti